Ciao, sono qui a Reggio Emilia dove stiamo per iniziare il corso Risveglia il tuo potere interiore grazie all'aiuto degli angeli e siamo in un luogo molto particolare, te lo faccio vedere Vedi, siamo in una palestra di arti marziali e qui c'è anche il ring ci sono tutte le strumentazioni ci sono i sacchi è un luogo molto bello, è molto particolare perché andremo a risvegliare un'energia guerriera tu dici, lavoriamo con gli angeli quindi sarà tutto un corso un po' morbido tutta un'energia gioiosa, d'amore, eccetera sì, certo, ci sarà l'amore ma sarà un amore molto particolare perché il lavoro che faremo sarà proprio volto a risvegliare il potere interiore delle persone che parteciperanno e devo dire che sono veramente tante perché abbiamo comunque organizzato questo corso in una settimana e siamo arrivati ad essere una quarantina di persone quindi sarà un bel lavoro che andremo a svolgere qui tutti insieme e ti faremo sapere com'è andata ciao grazie a tutti grazie a tutti